ciao ragazzi benvenuti su vlogganza i vlog mentre sono in vacanza pieni di ignoranza anche se non sono effettivamente in vacanza perché sono nella mia stanza dopo aver detto questa stronzata che probabilmente accompagnerà ogni inizio del video di cosa vogliamo parlare oggi e in generale in questi video ma parleremo del più del meno un po di quello che ci pare ma soprattutto non abbandoneremo il brand dragobur chiaramente chiaramente non abbandoneremo dokkan infatti oggi così tanto per restare in tema vi dico queste due cose che ho dimenticato fondamentalmente di dire nel video di stamattina ovvero su facebook sulla pagina ufficiale di dokkan battle hanno messo il terzo desiderio da esprimere quindi andate su facebook ragazzi e scegliete il vostro desiderio in questo caso i desideri sono o due elder kai e 10 stone oppure due statuette di mrs satan e 10 stone scegliete la vostra reazione ma mi sembra abbastanza palese che sceglieremo tutti vero due elder kai e 10 stone infatti potevano anche fare a meno di faccia di scegliere ce li dovevano regalare e basta ma va bene così lasciamo perdere l'altra cosa di cui volevo parlarvi e invece riguarda il jap stamattina hanno aggiunto questo banner all'interno delle news che ci presenta un'immagine di una spalla con una fascia ranger che ci ricorda il caro c17 della saga di super quindi che cosa sta per arrivare sta per arrivare effettivamente un nuovo c17 probabilmente class leader class leader di cosa bene bene quindi se questo c17 ammesso che abbia anche sta farmabile con i vecchi c17 non abbia un nome diverso sarà un nuovo class leader degli androidi oppure di qualcos'altro effettivamente se poi è leader degli androidi c21 che abbiamo visto qualche giorno fa riccata da vjump che quindi è effettivamente obg che esiste che arriverà che che cos'è che che è leader è quindi non c'è non non so non so fatemi sapere voi cosa ne pensa da riguardo secondo voi c17 potrebbe essere un leader diverso qualcosa che non non c'è niente con gli androidi oppure sarà lui il leader degli androidi mentre invece c21 potrebbe essere un leader di qualcos'altro magari legata non so alla metamorfosi visto che comunque è un pg molto legato alla metamorfosi non so qualcuno magari più informato di me che che ha letto qualche qualche news job tradotta come si deve mi faccia sapere cosa ne pensa e se sa qualcosa più di me a parte questo non non mi pare ci sia altro da aggiungere a parte che mi sto stancando il braccio così non so neanche l'audio come secondo me fa abbastanza schifo ma è questa è la qualità di questi video di ribusciamma totale proprio come sono stanco fa troppo caldo ragazzi non potete capire che che seccatura sta davanti al pc volevo a spendere giusto due parole sulla questione masched che comunque questa cosa che si è venuta a creare dopo il video del caro amico rampa io il video non nemmeno visto ragazzi che non c'è il tempo che in cui questo video è uscito il tempo che è stato rimosso io ho appreso della notizia in in modo riflesso perché poi la gente ha cominciato a rompere le scatole come al solito e volevo dire al caro amico rampa la community lo sai bene l'abbiamo già affrontato questo discorso è una community un po particolare secondo me non bisogna prendersela troppo forse o la prendi o la prendi un po così che te la fai scivolare addosso oppure ci scherzi anche tu perché effetti cioè fondamentalmente io capisco capisco che a un certo punto diventano pesanti pedulanti che una community un po difficile e e ti do ragione di sulla storia che è che dicevi su duranza su quello non posso darti torto hanno portato l'esasperazione uno youtuber con dei numeri grossi però ci puoi fare niente ormai la community è questa ce la dobbiamo tenere così mentre invece agli amici della community voglio dire ragazzi ma state un po più sereni mollate un po la presa ma scopate c'è ma non lo c'è state troppo attaccati troppo pesa siete pesanti voglio svegliate risa no veramente ragazzi io vi voglio bene ma alcuni di voi sono esagerati bo più bo più free to play ecco bo più gratis to play bo più tranquilli e poi soprattutto alcuni di voi ragazzi ma e quelli mi fa mi fanno veramente una tristezza incredibile non so perché siete così io non vi capisco perché godete delle sofferenze altrui ci sono alcuni di voi che nei commenti godono quando uno non trova una carta o godono quando qualcuno sbaglia godono se non trovi un pg nei ticket eh bastardi che cosa volete c'è da noi perché siete così non bisogna godere delle disavventure delle disgrazie altrui bisogna godere essere felici di quello che si ottiene di quello che si costruisce per se stessi siete tristi altrimenti basta e spero che questo sia l'ultima volta e lo dico perché il prossimo prossimo che gode e scrive una stronzata del genere sotto uno dei video lo vanno a vita da qualsiasi community ma ok sia una minaccia vabbè ragazzi noi ci vediamo al prossimo vlogganza e se nel caso esce qualcosa di particolare chiaramente i video di docca non è che spariscono sono in vacanza ma per finta in vacanza per finta quindi no un bacione fate i bravi comportatevi bene e basta cioè basta easy più più show 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 bello tranquille tranquille drogatevi